DAF è il Presidente Ecomondo a partiglione A7 con inatteprima italiana il suo XT elettrico che vedete qua alle mie spalle, di conseguenza vi aspettiamo numerosi per andare a vederlo, toccare il tuo mano, salire e vedere ovviamente tutte le punti positivi che abbiamo rispetto alla cabina NGD che ormai ci contraddistingue dal treno di questa parte. Vi aspettiamo!